Quasi 30 anni fa ha fondato l'associazione La Centralina, comunità pedagogico-riabilitativa che accoglie persone sofferenti di dipendenza da alcol e droghe e disagio psichico. Lo si trova sempre in prima fila nelle iniziative in aiuto dei migranti e per la legalità. Prete scomodo, ribelle, coraggioso o forse solo prete che sta con gli ultimi. Per Don Diego Fognini il Vangelo è accoglienza, non rifiuto. Amore non esclude nessuno, non a caso è il titolo di un libro curato a quattro mani da Anna Venzi e Angela Speziali che raccoglie un anno di omelie del sacerdote della Bassavalle e che sarà presentato sabato alle 21 presso l'hotel Miramonti a Valmasino. L'idea di questa pubblicazione è nata perché io ero in possesso appunto degli appunti, dei manoscritti di Don Diego riferiti a ogni domenica di un anno liturgico e volevo far qualcosa perché io in quegli appunti mi vedevo riflessa Il lavoro che abbiamo fatto noi è quello di lasciarci sorprendere e trasportare ogni volta da quello che leggevamo, quello che noi sentivamo nella lettura. Poi andavamo a fare un'ulteriore fase, un lavoro di ricerca, di ricerca su quello che potevano essere ad esempio le figure, per quel che riguarda ad esempio la Bibbia, le figure bibliche, oppure siamo partiti anche da Sant'Agostino, dai padri della Chiesa, fino ad arrivare a citare Madre Teresa di Calcutta con la sua cristianità. Per me personalmente ha dato una grandissima soddisfazione a me perché mi ha fatto riflettere, mi ha fatto ricredermi magari su tante cose, ma il fatto di riconoscere a Don Diego la fiducia che ha avuto in me nel darmi proprio i suoi scritti, proprio scritti di pugno, meritava proprio che io l'avessi riconosciuto raccogliendo le sue cose e esponendole a chi vorrà leggere il nostro libro. Il Vangelo, secondo Don Diego, va vissuto concretamente, va vissuto nella misura in cui lui diceva a volte il Vangelo è vissuto scomodamente, nel senso scomodo perché? Scomodo perché molte volte nella società di oggi non è facile vivere il Vangelo e vivere quindi questa dimensione. Lui nei suoi appunti ci spiega, ci aiuta a trovare dei valori e degli spunti su cui possiamo basarci per vivere nella nostra quotidianità il Vangelo.